Oltre 180 giorni per rifare i marciapiedi, un progetto originario stravolto e decine di attività commerciali in ginocchio. Questa la situazione su Viale Guglielmo Pepe a Pescara. Ieri il sopralluogo della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Pescara per fare il punto della situazione. Intanto, dopo l'ennesimo stop, i lavori sono ripartiti e la ditta assicura che nel giro di massimo 40 giorni, condizioni meteo permettendo, Viale Pepe sarà riconsegnata nuova e splendente alla collettività. Ma il malumore resta, soprattutto per quegli esercenti costretti a chiudere le attività per consentire l'apertura del cantiere e che hanno di fatto perso quasi sei mesi di lavoro. Pietro D'Agostino, titolare della gelateria Bibò. Lavori che devono partire nel 2015, poi con l'arrivo della nuova giunta, lavori bloccati perché i fondi dirottati altrove, è così? Sì, i lavori erano stati già appaltati, la gara d'appalto era stata vinta, dovevano partire a gennaio 2015, dopodiché i lavori sono stati sospesi, pagata una penale all'azienda che aveva vinto la gara d'appalto e dirottati i soldi forse in qualche altra zona di Pescara, che aveva forse più urgenza, questo non lo so. Tra i consiglieri comunali presenti, l'ex sindaco Luigi Mascia, che già nel 2013 aveva deliberato l'opera, poi accantonata dalla giunta Alessandrini. I cantieri Lumaca creano problemi e disagi residenti e creano problemi soprattutto alle attività che insistono in una determinata zona. Ciò che è successo qui in Via Pepe, dove ci sono decine di attività molto interessanti, molto evolute, che però sono fortemente penalizzate dalla lentezza di questi lavori. I lavori sono ripresi solo grazie all'insistenza della Commissione Lavori Pubblici, grazie al fatto che si è fatto un focus nei confronti dell'impresa e finalmente da ieri sono ricominciati questi lavori. Adesso però le scadenze devono essere rispettate, le penalità devono essere applicate, perché altrimenti davvero queste situazioni diventano insostenibili. Questi lavori in questo momento danneggiano attività produttive e danneggiano anche l'immagine della stagione balneare, perché queste Via Le Pepe hanno già tolto 200 posti macchina. Io credo che questa confusione che ha attualmente questa amministrazione sarebbe il caso che prima finisce e prima tornano a casa.